arriviamo arriviamo al momento tragico siamo il 28 maggio del 1606 e che succede dovete sapere che prima del calcio non è che non ci fossero fissazioni esatto esatto c'è c'è stata una rissa per colpa della pallacorda in pratica durante questa rissa caravaggio rimane sfregiato e a lui è andata bene e lui è andata bene perché c'è scappato pure il morto un tale ranuccio tommasoni che veniva da una famiglia di terni l'unico che viene accusato è stato il merisi esatto capro e spiatorio di tutti gli altri tutti escono tutti puliti lui posto il vaticano il papa gli mette sulla testa una condanna capitale esatto quindi alla far west non importa dove sei non importa con chi sei non importa se c'è un giudice non importa se c'è un poliziotto non importa niente tutti ti possono ammazzare a vista o meglio decapitare a vista riscuotere pure la taglia ricercato esatto c'è anche dire un'altra cosa che c'erano delle motivazioni dietro questo omicidio oltre al fatto che c'erano i debiti di gioco che pare che il caravaggio non avesse pagato c'era anche pare qualche problema con una donna di nome fillide melandroni e c'erano anche problemi politici perché il caravaggio era protetto dall'ambasciata francese mentre il tommasoni era filo spagnolo fatto sta che guarda caso da questo momento caravaggio comincia a dipingere teste mozzate prima di arrivare a queste rappresentazioni di decollazioni e non decolli ecco così è un'altra cosa qui scappa caravaggio scappa scappa da roma prima si rifugia nei feudi dei suoi amici colonna dopodiché scappa nel sud italia e va napoli sicilia malta e poi forse ci lascia le opere che più lo rappresentano anche perché essendo lontano dallo stato pontificio aveva più carta bianca sulla creazione sul suo estro creativo in questo periodo crea le sue opere diciamo più rappresentative di questo momento lui cosa crea sarà allora la madonna del rosario e le sette opere di misericordia sette opere di misericordia che si trovano nella chiesa di pio monte della misericordia a napoli io quel dipinto lo adoro si può dire una massa di gente in primo piano quindi una moltitudine di persone in primo piano potremmo anche dire in qualche maniera accalcate dove compiono tutti i gesti che vengono quasi fermati interrotti nel tempo quindi la gestualità è bloccata e in cui i contrasti di luci e ombre sono spettacolari questo è caravaggio quindi questa è proprio la sua piettura e la sua anima messa a nudo ma questo periodo di pace dura poco perché comunque si deve sempre spostarsi a malta dipinge la decollazione del battista quindi la decapitazione di giovanni battista e grazie a quest'opera il caravaggio riceve la croce di cavaliere ma la cosa importante di questo dipinto è che è l'unica opera di caravaggio che viene firmata da caravaggio stesso e a parte il fatto che viene firmata col sangue che no non si è tagliato le vene lui no semplicemente ha usato il colore del sangue che ha usato per il sangue del del battista per firmarsi e come si sarà firmato sarà firmato michelangelo merisi si sarà firmato caravaggio ma no no si è firmato fra michele angelo ora voi il merisi il merisi col caratterino che aveva o ce lo vedete come frate allora davide con testa di golia vediamo il golia decapitato abbiamo questo questa testa che è anche di familiare perché perché riporta uno sfregio che il caravaggio avrebbe subito durante un agguato a napoli dicevo che ha avuto più di una rissa quest'uomo e infatti questo sfregio si trova sulla fronte quindi come minimo si tratta di un autoritratto almeno la testa di golia alcuni studiosi poi anche il viso di davide sarebbe un altro autoritratto del caravaggio quindi è una è un'opera che è molto interessante intanto perché pare che venne inviata al cardinale scipione borghese in attesa della grazia che arriverà ahimè troppo tardi però vediamo che appunto c'è davide che guarda la testa di golia con aria quasi compassionevole e così compassionevole brava c'è un particolare molto interessante sulla lama usata da davide che è costituito da da qualche lettera cioè h a s o s che è l'abbreviazione per humilitas uccidit superbia ma cioè l'umiltà uccise la superbia come a dire davide ragazzo ancora innocente ancora ancora puro uccide la superbia quindi umile uccide la superbia di di golia quindi di sempre di caravaggio stesso grande che però si è macchiato dei suoi delitti del del dei suoi errori e che le riporta anche nel viso vedi appunto lo sfregio di cui eh ho appena parlato stiamo davanti un prima e un dopo esatto prima del caos dopo il caos sì quasi come se fosse un po' un riepilogo della vita del del caravaggio stesso ecco quasi un'eredità la chiamerei più introspezione psicologica bravissima è vero è vero si è guardato dentro e ha visto quello che era e quello che era diventato è vero e infatti poi manca farci apposta quando è che muore caravaggio muore un anno dopo no che spiegato perché voglio dire la la grazia gli stava arrivando da Roma gli era già partita e lui cosa fa? viene decapitato? no qualcuno ha riscosso una taglia no manco sa soddisfazione che poi non si sa bene neanche precisamente dove muore si sa che a Porto Ercole però secondo alcuni sarebbe stato sulla sulla spiaggia della Feniglia secondo altri in un ospedale appunto l'ospedale di Santa Maria Ausiliatrice perché è stato ritrovato un un registro insomma quindi eh non è chiaro probabilmente si è sentito male sulla spiaggia e poi è stato trasportato in ospedale dove poverino è morto quindi l'abbiamo sistemata esatto che poi è morto lì perché lui aspettava una un'imbarcazione che eh ahimè gli è andata male insomma ecco quindi secondo me è mio avviso eh eh il capitano proprio non ce l'ha voluto chi c'è? chi c'è? chi c'è? chi c'è? che deve salire? la terra sta lì no grazie quindi poverino adesso noi ci ridiamo sopra però poverino è stato veramente sfortunato non è stato decapitato non sono riusciti ad assassinarlo però comunque sia la sorte si è accanita su di lui è morto ugualmente esatto sicuramente poi anche indebolito da tutta la situazione eh sì sicura ma già non stava bene e di questo parleremo nella terza parte di Caravaggio che eh insomma tratterà il mh il merisi visto da una prospettiva più psicologica grazie anche al lavoro della nostra amica Francesca Ceresani grazie Franci non vi facciamo la testa quadrata quindi con l'aspetto psicologico da Freud state tranquilli rilassati niente di traumatico niente di traumatico tranquilli un bacione a tutti e alla prossima alla prossima arrivederci grazie a tutti